Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolisse. Per il calcio di Lega Pro, mentre le formazioni neopromosse sono ancora alle prese con gli incartamenti dell'iscrizione, oggi siamo al terzo giorno ufficiale di calcio mercato per le società di Serie C. In apertura la tristissima notizia della scomparsa di un giovane calciatore del Pineto, Matteo Serra. Questi, dopo un incidente in moto avvenuto nella serata di mercoledì a Pescara, ha combattuto fra la vita e la morte per due giorni fino al decesso di ieri sera. Sgomento l'ambiente calcistico della Serie D, in particolare i ragazzi e la società del Pineto. Serra aveva regolarmente preso parte all'ultima gara di campionato finale play-off in casa del notaresco. Un pensiero di cordoglio alla famiglia del giovane calciatore scomparso tragicamente. La Lega Pro scatena i dibattiti più serrati anche sulla possibilità di iscrizione delle nove promosse dalla quarta serie, di cui una ancora da decretare ufficialmente. I discorsi in questione sono destinati a terminare a partire da lunedì, quando scadranno i termini prorogati solo per le neopromosse dalla Serie D. Così si potrà comporre quantomeno sulla carta un possibile organico di 60 iscritte che l'avallo della Covisoc successivo potrà confermare nel giro di qualche giorno. L'attesa non sarà eccessiva e di passaggi anche rapidi. Diciamo che entro il 15 luglio i tifosi della Serie C conosceranno gli organici regolarmente ammessi in quarta serie. A seguire si potrà procedere alla suddivisione dei gironi, secondo il criterio orizzontale, alla redazione dei calendari. Circa i gironi, quello più a sud sembrerebbe già composto, quantomeno nei discorsi ipotetici, dovrebbe essere confermata la presenza nel girone C della Viterbese, anche se è risaputo che la società del presidente Camilli non gradisce molto questa opzione. Il Monterosi ed il Pescara, la prima neopromossa, la seconda neoretrocessa, dovrebbero essere collocati nel girone B. Il Campobasso inquadra i prossimi sette giorni come quelli destinati a dare novità ulteriori. Nessun problema circa l'iscrizione. Dopo la conferma e nel giro di qualche giorno, la società passerà le conferme di staff e giocatori dal passato campionato. Lo staff dirigenziale vorrà passare immediatamente alla promozione della nuova campagna abbonamenti con un'attenzione particolare sempre allo stile e al marketing, come è in uso presso la società Rosso Blu. Ricordiamo lo slogan della passata campagna abbonamenti ad occhi chiusi. Sicuramente sarà uno slogan accattivante quello di quest'anno e nel segno di un ritorno allo stadio che la società auspica possa essere graduale. Sì, ma destinato ad aumentare di capienza. Se si giocasse oggi una gara di Lega Pro sarebbe ammesso il 25% della capienza con una possibile omologazione di Selvapiana a 7.500 spettatori e soprattutto a lavori ultimati la relativa capienza per motivi aritmetici crescerebbe. Calcio a 5 di serie A2, Ruan Rosa Dos Santos, detto Ruazzigno, è la prima new entry del circolo La Nebbia Cus Molise. Dopo tante riconfermi arriva il primo volto nuovo alla corte di Mister Sanginario che lo inseguiva già da diversi anni. Per lui è pronto un contratto biennale, forte tecnicamente, dotato di grande velocità e senso del gol. Per il Neorosso Blu sarà la prima esperienza in Italia. Automobilismo tutto pronto per il quinto slalom di San Nicola Memorial Gianmarco di Vico. Oggi la fase di accredito, domani la gara. È iniziato il countdown per lo start al quinto slalom di San Nicola Memorial Gianmarco di Vico. In programma domani a partire dalle 10 tra le curve di San Giuliano del Sagno. Un successo anche dal punto di vista delle iscrizioni, circa 60. Un numero che rende giustizia, soprattutto sotto il profilo dello sforzo messo in atto dagli organizzatori dell'evento. ASD Tecnomotor Racing Team e ASD Tecnomotor ufficiali di gara alla casta hanno svolto un lavoro certosino curando ogni minimo dettaglio al fine di garantire una competizione di livello. La gara di San Giuliano del Sagno rappresenta un appuntamento sportivo, ma anche il ricordo di Gianmarco di Vico, ragazzo strappato alla vita troppo presto, a cui è stata intitolata la manifestazione. Gianmarco amava il mondo dei motori e nonostante la giovane età da qualche anno era nello staff di Donato Catano, che proprio domani gareggerà a bordo della sua A112 Elegant. Sulla linea di partenza ci sarà anche il sei volte campione italiano Fabio Emanuele con la sua osella PA 990 motore Alfa Romeo. Ci saranno anche altri piloti impegnati nel campionato tricolore, Alberto Scarafone su Formula Gloria, Giuseppe Di Domenica a bordo di una Radical SR4, Donato Antonio Cobucci su Radical Pro Sport. Ottimo bilancio anche per la gara della regolarità turistica, 11 le adesioni per la competizione che vedrà le auto storiche e moderne affrontare le postazioni di rallentamento. Le passate edizioni hanno permesso al gruppo dei regolaristi di crescere sotto il punto di vista numerico e tecnico. Gli organizzatori hanno aumentato la difficoltà del percorso, aggiungendo tre rilevamenti cronometrici a metà gara, che metteranno a dura prova le loro abilità. Si preannuncia dunque una manifestazione competitiva sotto tutti i punti di vista. Tornando allo slalom, i driver dovranno destreggiarsi su un circuito che partirà dalla SP53 per poi proseguire sulla SP69, che porta proprio nel centro del borgo molisano per un totale di poco meno di 3 chilometri. 14 le postazioni di rallentamento per la prova slalom con l'aggiunta di tre intervalli per la regolarità turistica. Tre le salite che decreteranno il vincitore di questa edizione. Non resta dunque che attendere domani e godersi questa domenica all'insegna di curve e motori, senza dimenticare ogni tanto di alzare lo sguardo al cielo nel nome di un ragazzo speciale. Da domenica 18 luglio a sabato 24 presso lo stadio Civitelle di Agnone, in programma un camp di approfondimento sulla tecnica del calcio. Prenderanno parte alla manifestazione ragazzi e ragazze, nati dal 2000 al 2004, tante già le adesioni pervenute da fuori regione. Il camp verrà tenuto da Pietro Donadio, allenatore WIFAB, che vanta un curriculum davvero eccellente. L'Aurora Alto Casertano programma la prossima stagione in quarta serie, ma intanto il numero uno del club vicino anche al Termoli. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le prime date della prossima stagione 2021-2022. Coppa Italia inizio 23 febbraio, finale il 20 aprile. Torneo delle Regioni calcio a 5-8-15 aprile. Quello di calcio a 11 si svolgerà dal 23 al 30 aprile. La fase nazionale del campionato Juniors con inizio previsto l'11 maggio, finale programmata l'11 giugno. Per finire spareggi di eccellenza per quanto riguarda le seconde classificate, il primo turno dal 22 al 29 maggio, secondo turno 5-12 giugno. Orari di gioco dal 25 luglio, le partite inizieranno alle 16, dal 5 di settembre alle 15.30. Dal 31 ottobre tutti in campo alle 14.30, dal 23 gennaio mezz'ora più tardi, ore 15, 27 marzo, ore 16, dal 17 aprile alle ore 16.30. Il campionato di quarta serie potrebbe partire il 19 settembre, qui usiamo però il condizionale. Intanto le società si stanno muovendo per questa nuova stagione. Partiamo dall'Aurora Alto Casertano, confermati i rumors che vedono il presente Montaquila vicino al Termoli 1920 di Castelluccio. Nelle prossime ore verrà ufficializzato il passaggio e in Basso Molise Montaquila allestirà un nuovo organigramma e un nuovo staff tecnico. Lui sarà l'unica figura che comparirà in entrambi i club. Montaquila presidente, il dottor Alberto Montano vicepresidente, Marco Castelluccio direttore sportivo e il navigato, Franco Nardacchione segretario. Lascia il calcio giocato il portiere Antonio Bruno, che potrebbe avere compiti dirigenziali nel Termoli del futuro. Castelluccio ha salutato e ringraziato la famiglia Carbonelli, via sia l'allenatore che il preparatore atletico. Per la panchina il candidato è l'ex Aurora Aururi Rocco Melchiorre, ma c'è da vincere la concorrenza di diverse società. Altro papabile è l'ex guionesi Ciro Mennella, in passato giocatore dei giallorossi. Da Termoli quasi tutti confermati, tranne ovviamente Giovanni Chin, che non ha trovato poi l'accordo con il Pescara e sembra aver definito con il San Marino. Sul fronte Aurora, ad oggi è arrivata solo la conferma di mister De Rosa. Nei prossimi giorni incontrerà il DS Sant'Angelo e insieme definiranno i riconfermati e nuovi obiettivi di mercato. Sicuro partente l'attaccante Nicola Panico, con diverse offerte, sempre dal massimo campionato regionale, non escluso un suo ritorno a Isernia. A proposito dei Bianco Celesti, terminata l'esperienza comune della società Città di Isernia e della società Isernia Fraterna. Per divergenze gestionali tra il presidente Traisce e il vicepresidente Antenucci, il progetto comune volge al termine. Restano attive entrambe le società che perseguiranno le loro attività nei rispettivi campionati. Questa è la nota ufficiale dei club che quindi non collaboreranno più per la stagione 2021-2022. Pesca sportiva Mimmo Dalise è stato selezionato per entrare a far parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana di Pesca alla Trota con eschi artificiali per il prossimo mondiale in Bulgaria. Un traguardo importante per lui è per la Fipsas Molise. Basket giovanile in queste settimane, le ragazze del settore giovanile della Magnolia e della Cestistica Campobasso sono arrivate alle ultime gare stagionali. Se con la formazione Under-20 è arrivato già il terzo posto a livello nazionale, la squadra Under-18 resta in attesa solo dell'ufficialità da parte della federazione che la decreti vincitrice del torneo. Ai nostri microfoni una delle atlete rosso-blu. Giorgia Moffa, 2006, della Magnolia Basket Femminile, settore giovanile. Allora, è un'esperienza sicuramente formativa questa per voi, anche perché unendo lo sport, lo studio, insomma vi state levando sul campo, sul parquet, delle belle soddisfazioni ultimamente. Sicuramente anche alla Coppa Italia Under-20 nessuno si aspettava quel risultato, siamo andate là e le squadre ci hanno anche abbastanza sottovalutato in quanto più piccole rispetto agli altri, però siamo molto orgogliose di noi, di aver raggiunto questo risultato e è stata una bellissima esperienza. Allora, hai parlato della Coppa Italia Under-20 dove vi siete classificate terze. Avete vinto, mentre una squadra parzialmente diversa ha vinto il torneo Under-18 contro Roseto, dimostrando insomma che c'è un valido assortimento. Allora, alla Coppa Italia sono arrivate altre tre giocatrici dalla campagna e nonostante abbiamo fatto circa tre allenamenti, si sono subito integrate e siamo riuscite a giocare tutte insieme. Oggi anche abbiamo giocato molto bene di squadra, infatti abbiamo raggiunto un grande risultato e siamo contenti. Senti, vi vedo molto motivate e cattive, questo è un segreto proprio dello sport, dell'agonismo in generale, quindi c'è anche dietro una struttura che funziona, voglio dire. Sì, sì, assolutamente e riusciamo a giocare bene insieme e siamo orgogliose. Siete orgogliose. Per quanto riguarda il futuro? Sicuramente il sogno è quello di arrivare a giocare in A1, come credo tutte, è un sogno nel cassetto che mi auguro arriverà presto. C'è qualcuna però che già ha debuttato? Sì, sicuramente Laura, che alla mia stessa età ha già debuttato, ha fatto anche un canestro, Giorgia Amatori che gioca già da qualche anno qui e anche Alessandra Falbo, gioca nella Magnolia, ha fatto l'esordio. Ho notato che non è che alle ragazze di fuori manchi più di tanto casa, ecco lo dico a te perché tu sei di Campobasso, però ci sono ragazze di San Severo, una ragazza brindisina. Non vedo questa grossa sofferenza. No, alla fine qui sono praticamente quasi tutte da fuori, a parte due o tre, compresa io, però da subito le abbiamo fatte sentire a casa e ci siamo integrate tutte insieme e loro si sono trovate benissimo con noi. Calcio estivo nei giorni scorsi è stata inaugurata la ventisesima edizione del torneo Madonna del Carmine di Riccia. Il torneo estivo di calcio Fortorino si è dovuto adattare alle direttive in vigore, ma non ha voluto saltare l'appuntamento sportivo inserito nel cartellone degli eventi per le festività della Madonna del Carmine, patrona di Riccia. Ai nostri microfoni Donato Tronca, organizzatore insieme alla sua famiglia. Donato Tronca, organizzatore del ventisesimo torneo Madonna del Carmine. Donato si ricomincia con un torneo, diciamo, made in Riccia, possiamo dire. Sì, sì, è un torneo quest'anno con tutti i riccesi. Siamo tornati come la prima edizione nel lontano 95, quando furono tutti i riccesi ad aprire il famoso torneo di calcio Madonna del Carmine. Sono contentissimo che possiamo ricominciare a fare il torneo della Madonna del Carmine perché dopo quest'anno di stop, dovuto a questa pandemia che ha attenagliato il mondo, grazie a Dio possiamo ricominciare a rigiocare su questo bellissimo tappeto verde. Donato, questo stop forzato, tra virgolette, vi ha aiutato ad arrivare meglio a organizzare questo torneo di quest'anno? Eh no, ci sono stati momenti veramente di paura, anche perché la mia famiglia è stata colpita dal virus e quindi ci siamo preoccupati, forse dopo il venticinquesimo abbiamo detto forse è finito il torneo della Madonna del Carmine. Però quest'anno stiamo qui al Poce con tanta grinta, con tanta determinazione per ricominciare il ventisesimo torneo di calcio. Ma Riccia, come tu sai, Donato è una comunità dura, storica e quindi va sempre avanti, non si ferma davanti alle difficoltà. Sì, i Riccesi, quando mi incontravo per strada, mi chiedevano di organizzarlo, io vedevo se mi dicevano se si poteva fare, io mi sono messo subito a disposizione, però ho trovato tantissima gente che mi chiedeva per strada di voler continuare a giocare e a partecipare al torneo. La finale si farà in compitanza con la festa della Madonna del Carmine, però appena finita questa edizione Donato già si penserà alla prossima. Sì, certamente, questo è un torneo legato alla Madonna, perché lei è la padrona dei Ricci, si fa tutto per la padrona e sicuramente il 17 con la testa già siamo per la ventisettesima edizione, sicuramente. Dove dovrebbe tornare ancora di più la normalità? Speriamo, io mi auguro che l'anno prossimo staremo tutti quanti tranquilli, senza fare la fotocertificazione, senza misurarci con il termometro e la temperatura e che tutti quanti, anche quelli da fuori Riccia, possono partecipare al torneo, perché è stato brutto quest'anno a dire a tantissimi ragazzi che mi hanno telefonato che volevano venire a partecipare. Purtroppo lo sappiamo che non è il momento giusto per fare queste cose e rimandiamo tutti all'anno prossimo, sicuramente staremo meglio. Magari con 500 persone sugli spazi? Sicuramente, anzi, agli anni d'oro ne erano pure 1.500 persone, che era bellissimo vedere, tantissima partecipazione. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon fine settimana!